Buono, grazie ai Varanasi sono stati bravissimi Un applauso introduttivo Fatevi sentire un po' Un attacco da parte di un farfallo Buona serata e buon ascolto Grazie a tutti Particiamo delle emozioni E' andato a svolto con o qualcosa di pezzi Prefetto a risposta e pezzi Particiamo delle situazioni Particiamo delle emozioni E' andato a svolto con o qualcosa di pezzi Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.